eccoci pronti per preparare le zucchine tonde ripiene di tonno squisite prima cosa sono andata a svuotare le zucchine e già messo dentro del sale adesso le rigiro e le lascio capovolte per un 10 15 minuti in modo tale che vadano a perdere la loro acqua di vegetazione nel frattempo anche tritato mezza cipolla e ho qui la polpa che ho estratto dalle zucchine adesso passiamo alla cottura della polpa una padella a scaldo dell'olio extravergine d'oliva con la mezza cipolla adesso aspetto che si scaldi l'olio per poi aggiungerci la polpa delle zucchine qui pronto l'olio aggiungiamo la polpa delle zucchine andiamo a sistemare il sale amalgamo e lascio cuocere a fuoco medio con coperchio per 56 minuti le zucchine devono solo ammorbidirsi un po ecco qui le zucchine sono pronte adesso in un mixer vado a mettere la polpa di zucchine che abbiamo cotto alle zucchine vado ad aggiungere il tonno in scatola sono circa 160 grammi di tonno e adesso andiamo ad aggiungere dei cucchiai di pangrattato per asciugare un po il composto aggiungiamo pangrattato fin quando il composto non si sarà addensato un pochino quindi avete come avete visto all'inizio era un po il troppo liquido adesso aggiungendo la mano pangrattato possiamo poi asciugarlo un pochino eccolo qui pronto il mio composto possiamo andare a riempire le nostre zucchine allora vedete le ho già messe su una teglia da forno che ho rivestito con carta da forno adesso con l'aiuto di un cucchiaio vado a riempire la mia zucchina e ora e continua così con le altre eccole qui le mie zucchine ripiene di tonno olive capper sono pronte per essere infornate adesso le infornerò a 180 gradi per 40 45 minuti le calottine le aggiungerò agli ultimi 10 minuti quindi negli ultimi 10 minuti di cottura cuocerò anche le calotte andiamo ad infornarle inforniamo 180 gradi per 40 45 minuti ed eccole qui le mie zucchine tonde ripiene di tonno olive capperi sono pronte per essere gustate guardate che meraviglia sono state in forno nel mio forno a 180 gradi per 45 minuti guardate che belle vi assicuro che sono semplicissime e davvero gustose vi consiglio di provare a farle e niente ragazzi io spero che questa ricetta vi sia piaciuta se provate a farle scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatevi instagram con le vostre foto e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video io vi mando un bacio ci vediamo alla prossima ciao